Il pecorino romano DOP è stato incluso dal Consiglio europeo nell'elenco dei 17 prodotti italiani tutelati da indicazione geografica nell'accordo di scambi commerciali tra l'Europa e il Vietnam, accordo firmato a noi nel 2019 e che sarà operativo tra qualche mese dopo la ratifica del Parlamento vietnamita. Grande soddisfazione è stata dunque espressa da Salvatore Palitta, presidente del Consorzio di tutela del pecorino romano DOP, che ha sede a Macommer. Non a caso a Macommer, poiché a dispetto della denominazione romano il 97% della produzione è di origine sarda e solo il 3% distribuito tra Regione Lazio e provincia di Grossetto. Sull'accordo il presidente Palitta dichiara un risultato importante che il Consorzio ha conseguito seguendo i negoziati e collaborando con il Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali. Gli accordi di libero scambio e la definizione di un quadro internazionale comune di tutela delle indicazioni geografiche concorrono ad ampliare i mercati. Il trattato tra la Repubblica Sud-Est Asiatica e l'Europa permette una maggiore difesa dalle contraffazioni e la tutela della salute dei consumatori, come pure procedure burocratiche di esportazione facilitate e sgravi doganali del 99%. I prodotti europei a indicazione geografica protetta sono complessivamente 169 e il pecorino romano DOP, tra questi, merita il giusto riconoscimento per l'alta qualità della materia prima e le peculiarità della sua lavorazione.